salve ragazzi come vi avevo preannunciato nel precedente filmato oggi vi parlerò di nuovo di tecnologia e più precisamente di un orologio al quarzo analogico che solo apparentemente può sembrare normale il citizen eco drive aviator codice aw5024 e vi auguro una buona visione cerco di spiegarvi in due parole più semplici possibili in che cosa consiste la tecnologia eco drive normalmente gli orologi al quarzo sono alimentati da una pila a bottone di una batteria a bottone che ha una certa durata a seconda del tipo di orologio e della complicazione del meccanismo può durare due anni può durare quattro anni cinque anni però a certo punto si scaria finisce e va sostituita la tecnologia eco drive è completamente diversa perché per l'alimentazione del meccanismo dell'orologio utilizza l'energia solare allora il diciamo il il meccanismo eco drive è fondamentalmente composto da due elementi il primo elemento è un pannello solare microscopico piccolissimo che è nascosto nel quadrante dell'orologio questo pannello solare riceve l'energia luminosa sia dal sole che anche da fonti di illuminazione artificiali trasforma questa energia luminosa in energia elettrica e questa energia elettrica la invia a un piccolo accumulatore che sarebbe una specie di condensatore il quale a sua volta dopo averla immagazzinata la eroga gradualmente al meccanismo al quarzo dell'orologio ok il solito meccanismo al quarzo che troviamo anche su tutti gli altri orologi per cui diciamo con questo sistema virtualmente l'accumulatore del dell'orologio che monta il meccanismo eco drive che assomiglia se lo vedete in tutto e per tutto a una batteria a bottone a una pila a bottone è virtualmente diciamo inesauribile perché praticamente è un elemento che non si scarica mai perché viene continuamente ricaricato dall'energia luminosa ho detto virtualmente perché chiaramente anche l'accumulatore del sistema eco drive come gli accumulatori di molti altri orologi che montano sistemi analoghi che funzionano sullo stesso principio hanno chiaramente un ciclo vitale alla fine si esauriscono anche quelli ma il periodo di esaurimento di questi accumulatori è molto molto più lungo ora dopo ve lo farò vedere nel dettaglio questo è un orologio un casio talk solar che funziona in modo molto simile rispetto all'eco drive questo l'orologio io l'ho comprato 12 anni fa in 12 anni ancora non ho mai cambiato l'accumulatore questo orologio sta funzionando perfettamente ininterrottamente da 12 anni e dopo ve lo farò vedere nel dettaglio se andiamo a vedere il livello di carica dell'accumulatore è ancora al massimo c'è una condizione specifica con cui si possano mantenere alla massima efficienza gli orologi che utilizzano accumulatori ed energia solare ed è un diciamo un sistema apparentemente strano cioè non bisogna mai riporli in un ambiente al buio ok vanno sempre lasciati esposti alla luce che sia la luce solare o che sia semplicemente la luce che abbiamo in casa quando accendiamo la luce appoggiati su un comodino l'importante è che non stiano mai per lunghi periodi al buio anche se teoricamente la tecnologia eco drive garantisce una buona autonomia anche in caso di assenza totale di luce allora ecco l'orologio in questione diamo subito un po di misure cassa in forma tonda diametro 43 mm spessore della cassa circa 12,7 mm lag to lag circa 50 mm peso dell'orologio 88 grammi e impermeabilità dopo la vedremo sul sul fondello dovrebbe essere circa 10 atmosfere cioè 100 metri vediamo adesso altri dati allora vediamo nel dettaglio il quadrante e la cassa dell'orologio dunque quadrante che a me piace moltissimo semplicissimo e leggibilissimo stile nettamente militare field watch numeri numeri ben grandi arrotondati ben leggibili in colore beige chiaro lancette anche queste molto chiare spiccano bene la lancetta del leore bianca e la lancetta dei minuti bianca contornata di un colore arancione le lancette sono ricoperte da materiale luminescente allora per quanto riguarda gli indici gli indici luminescenti sono solo 4 si vede chiaramente sono quelli bordati di arancione abbiamo la freccia alle ore 12 poi un indice luminescente alle 3 1 alle 6 e 1 alle 9 dunque abbiamo uno sfondo del quadrante nero esiste anche una versione molto bella per la verità con lo sfondo del quadrante blu ma è più difficile accoppiarla con i cinturini quella nera invece diciamo che si accoppia bene con vari tipi di cinturini e abbiamo il come nei classici field watch il secondo quadrante interno con la numerazione delle 24 ore alle ore 3 abbiamo la data niente di più lancetta dei secondi molto sottile ma in cima vediamo una bella una bella freccia anche questa luminescente ecco quadrante veramente molto molto semplice ma ripeto a me piace tantissimo perché è veramente leggibilissimo immediatamente a colpo d'occhio come tutti i field watch del resto vediamo un attimino la cassa cercando magari di rimettere a fuoco via via vediamo un po la cassa chiaramente abbiamo detto 12,7 mm un certo spessore il lag to lag è di quasi 50 mm ma comunque non dà particolarmente fastidio perché come vedete le anse sono ripiegate in giù a becco d'aquila ok come vedete la cassa è spazzolata tutta anche dalla parte superiore non ci sono parti cromate mentre invece la corona la corona la vedete è molto è molto grossa si impugna molto bene è una corona a doppio scatto ha il primo scatto per la regolazione della della data e il secondo scatto fa il fermo macchina e la regolazione dell'ora è una corona molto grossa si impugna molto bene ma purtroppo non è una corona a vite è una corona diciamo a pressione normale questo sinceramente mi fa un po dubitare sull'effettiva validità dell'impermeabilità a 100 metri non credo proprio che ci possa arrivare diciamo che ci possiamo lavare le mani è al limite fare una doccia ma non ci farei molto di più vediamo il fondello come vedete il fondello è a vite per cui da questo punto di vista effettivamente e ci si potrebbe effettivamente aspettare un'impermeabilità di 100 metri e difatti sul fondello piccolino piccolino c'è scritto molto piccolino per la verità water resistant 10 bar ma insomma vabbè diciamo che comunque non è l'orologio adatto per andare a farci il bagno il vetro dell'orologio è come vedete leggermente sporgente sembrerebbe un vetro abbastanza spesso nelle caratteristiche fornite dal produttore c'è scritto è un vetro minerale antigraffio ma chiaramente non si tratta di un vetro zaffiro tenete presente che questo l'orologio lo trovate in vendita su amazon a circa 120 euro 120 130 euro per cui è un prezzo veramente basso è un orologio economico veramente alla portata di tutti una nota particolare sul cinturino che denota che nonostante questo sia un orologio diciamo economico ma la citizen non trascura i dettagli questo è un cinturino in tessuto traspirante di ottima qualità ottima qualità veramente come vedete abbiamo un rinforzo con due cuciture all'altezza del diciamo dell'attacco delle alze ok e abbiamo i fori del cinturino che sono rivettati in modo da garantire una durata nel tempo del cinturino di solito in questo punto il cinturino dopo un certo periodo si sfilaccia invece con i fori rivettati siamo tranquilli che il cinturino durerà parecchio sull'altro lato notiamo un altro particolare degno di nota e cioè che la fibbia a è marcata citizen ci sono due 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 diciamo ferma ferma cinturino di cui uno è fisso e uno è mobile il bello del cinturino viene sul retro mentre di solito i cinturini in tessuto sono in tessuto e basta ok questo sul retro ha un sottile rivestimento in pelle da notare anche qui il cinturino è marcato citizen ok questo sembra un accorgimento così tanto per bellezza invece no questo rivestimento in pelle è fa sì che praticamente il cinturino sia assolutamente refrattario al sudore cioè io me lo sto mettendo al polso in questi giorni in cui a firenze c'è un caldo circa 40 gradi ecco questo è l'unico orologio che quando me lo tolco io ho il polso perfettamente asciutto proprio perché c'è questo accoppiamento fra pelle e tessuto traspirante in questo modo la pelle sta a contatto con la pelle del polso e praticamente la sudorazione viene assorbita completamente questo è un accorgimento molto intelligente fortunatamente questi cinturini si trovano di ricambio su aliexpress ne ho trovate proprio apposta per il citizen eco drive e lo ne ho acquistato subito uno perché sono cinturini particolarmente secondo me impregiati adesso cerco di farvi vedere come è dislocato il pannello solare su questo quadrante premetto che lo volevo fare con il mio microscopio ma purtroppo il mio microscopio mi ha abbandonato per cui sono costretto a farlo con la fotocamera non so fino a che punto diciamo l'inquadratura potrà risultare chiara allora qui voi vedete un quadrante ok un quadrante ma in realtà questo quadrante qui se io piego l'orologio lateralmente vediamo è un quadrante composto da due due livelli il primo livello è quello più alto è quello dove ci sono gli indici e il secondo livello che si trova diciamo più in basso è invece il livello dove ci sono le lancette e i numeri tra un livello un altro vedete c'è un intercapedine è questa qui che vedete voi giro giro non è una cosa fatta tanto per bellezza qui è posizionato una strisciolina di materiale fotosensibile qui c'è il pannello solare il pannello solare gira tutto intorno al dislivello tra i due padranti ed è da lì che l'orologio riceve l'energia luminosa è fatto in questo modo perché così con qualunque inclinazione noi teniamo l'orologio e da qualunque diciamo punto arrivi la luce comunque una parte del pannello solare del micro pannello solare sarà sempre illuminata e genererà sempre una corrente elettrica che verrà immagazzinata dall'accumulatore eccovi forse si vede meglio vedete questa cosa sembra di plastica lucida che c'è fra il quadrante diciamo su fra la ghiera superiore e il piano più basso del quadrante lì intorno giro giro c'è il pannello solare e non è altro che una strisciolina sottilissima di appunto materiale che genera corrente elettrica come sempre facciamo una prova di luminescenza del quadrante ve lo dico già non è un quadrante ha una gran luminescenza e non è molto persistente illuminiamo come sempre con la torcia per un attimo poi spengiamo la torcia e vediamo ecco vedete abbiamo ore minuti i quattro indici e l'ancetta dei secondi piccolina piccolina che si vede ancora però come vedete la luminescenza va calando abbastanza rapidamente o forse non si capisce bene da questo da questa ripresa ma la luminescenza è di colore azzurro ok celeste via per cui anche un colore molto gradevole un po non è il solito verde prima di chiudere il filmato indosso l'orologio al polso eccolo qua come vedete io ho un polso che ha una circonferenza di circa 19 cm circa 18 e mezzo ma e vedete che l'orologio è assolutamente proporzionato lo spessore è importante lo si nota bene ma comunque l'orologio ha un aspetto veramente molto molto gradevole anche le anse nonostante che ci sia un lag to lag piuttosto importante non danno assolutamente fastidio ecco alcune ulteriori informazioni un po più specifiche che ho tratto da un sito che ha recensito questo orologio in maniera veramente professionale allora vi vediamo che il sistema ecodrive è stato diciamo ideato dalla citizen nel 1976 e che l'orologio si alimenta da qualsiasi fonte luminosa una volta che l'orologio si è caricato per cui dopo qualche giorno magari che lo portiamo al polso l'orologio può funzionare può continuare a funzionare interrottamente anche per sei mesi io sinceramente sconsiglio di tenerlo al buio per sei mesi ma consiglio di indossarlo tutti i giorni o comunque anche se non si indossa di lasciarlo esposto appoggiato su un comodino in un posto dove possa ricevere la luce anche se non è una luce forte lui si ricarica anche con la luce diciamo di una lampadina ok questo è un dato importante io non conoscevo e che leggo con molto piacere praticamente questo sistema ecodrive praticamente ottimizza la carica anche quando sta per esaurirsi ok quando la carica è bassa vediamo che la lancetta dei secondi si muove a intervalli lunghi di due secondi e non più di un secondo per volta e quando l'orologio viene tenuto al buio cioè per esempio quando ce ne andiamo a letto e spingiamo la luce per cui non c'è nessuna fonte diciamo luminosa che lo possa alimentare le lancette si fermano praticamente per non consumare energia e nel momento in cui praticamente l'intensità luminosa arriva a un livello appena sufficiente le lancette si rimettono rapidamente nella posizione corretta ok per cui diciamo non io personalmente la mattina quando accendo la luce non mi accorgo di questo movimento praticamente non faccio altro e guardarlo e vedo l'orologio segna l'ora corretta allora ragazzi siamo arrivati alle conclusioni alle conclusioni finali chi conosce il mio canale youtube e conosce me sa che io non sono sponsorizzato da nessuno specialmente nella sezione che riguarda la tecnologia per cui sono completamente libero di esprimere i miei giudizi nel modo più spietato possibile non sono un tipo tenero se c'è qualcosa che non funziona ve le dico chiaramente in faccia in questo caso mi sento di dover dire che questo orologio insieme a poi altri orologi che vi ho già diciamo descritto nelle mie recensioni è uno di quelli di cui veramente ho un grande apprezzamento cioè sono contento veramente di averlo acquistato perché è un orologio che costa poco prima di tutto è un orologio che nonostante il prezzo basso è fatto bene è un orologio all'avanguardia perché utilizza una tecnologia molto interessante e molto fra virgolette intelligente per cui acquisto pienamente promosso assolutamente sotto tutti i punti di vista sull'impermeabilità forse se si fosse messo una corona a vite si sarebbe proprio chiuso completamente il cerchio quello forse è l'unico neo che mi sarebbe piaciuto vedere ecco anche pur essendo un orologio a basso costo però visto che me lo dai per 100 metri di impermeabilità magari oltre al fondello a vite mettimi anche una corona a vite ecco non ho altro a dirvi mi sembra di averla fatta anche troppo lunga spero che il filmato vi sia piaciuto vi do appuntamento al prossimo filmato e vi invito se volete a seguirmi sulla piattaforma odyssey come sapete c'è un canale note di svapo anche sulla piattaforma odyssey potete vedere tutti i miei filmati anche lì ciao ragazzi al prossimo filmato